Ciao, io sono Antonio e anche oggi, come ogni settimana, parleremo del Wizarding World di J.K. Rowling. Oggi, in particolar modo, tratteremo le nuove uscite imminenti in home video di Animali Fantastici, i Crimini di Grindelwald, che arriveranno in tutti gli store a partire da domani, 14 marzo. Ma intanto vi racconterò quali sono le nuove uscite e poi faremo un unboxing assieme, perché Warner mi ha inviato una busta piena di cose fantastiche. Tra queste c'è anche una bellissima versione in anteprima di I Crimini di Grindelwald, che non vedo l'ora di mostrarvi. Ma andiamo per ordine. Intanto vi racconto, appunto, quali sono i nuovi prodotti in uscita domani, che trovate tutti linkati, naturalmente, sotto in info box e che potrete acquistare tranquillamente su Amazon. La prima è, naturalmente, la versione DVD del film. Versione DVD con audio in Dolby Digital 5.1. E, ragazzi, questa è l'unica versione che non contiene le scene eliminate, o comunque le scene extra all'interno dei contenuti speciali. Sono quindi presenti i contenuti speciali, ma non le tanto chiacchierate scene eliminate, purtroppo. Invece, passando alla versione Blu-ray classica e per tutte le versioni a seguire, saranno sempre presenti le scene eliminate. Me l'avete chiesto in tantissimi, quindi vi do conferma. In tutte le versioni Blu-ray sono presenti questi contenuti extra che interessano un po' tutti. Quindi, versione Blu-ray classica in audio HD 5.1 e poi si passa alla versione Steelbook. Versione Steelbook molto, molto interessante. Due anni fa acquistai quella con lo snaso in copertina. Quest'anno abbiamo il simbolo dei Doni della Morte in versione lenticolare. È promesso un magnete lenticolare all'interno della confezione. Credo proprio che si tratti della copertina removibile in formato lenticolare. Un po' come quella che troveremo nella versione che vi mostrerò. Però non è dato maggiore dettaglio di questo magnete né nel comunicato stampa né su Amazon, ad esempio, dove è già in preordine. Ma io credo fortemente che si tratti della copertina removibile. Ma lo scopriremo prestissimo perché io ho già preordinato anche quella che mi arriverà domani. Quindi seguitemi su Instagram Antonio.seria così domani nelle storie potrete scoprire se avrò avuto ragione o meno. Andando ancora avanti, ecco che è presente l'immancabile versione 4K. 4K che contiene sempre al suo interno, lo ricordo per chi non lo sapesse, anche la versione Blu-ray normale. È quindi un acquisto che potrete fare tranquillamente anche se non possedete già un TV 4K o un lettore 4K perché potrete usufruire comunque della versione Blu-ray classica in attesa di magari fare un upgrade del vostro hardware in casa. Cosa molto molto interessante, per la prima volta in assoluto, in una versione italiana, quindi con audio italiano, nella versione 4K del film è presente l'audio in Dolby Atmos 7.1. Cosa vuol dire? Vuol dire che, avendo un hardware predisposto in casa per poter riprodurre il Dolby Atmos, potrete ascoltare l'audio provenire anche dall'alto. In Italia ci sono alcuni cinema che già sono predisposti con questo tipo di supporto audio e ragazzi è davvero tanta tanta roba sentire le cose anche cadere dall'alto, ad esempio la pioggia, una cosa banalissima ma che davvero fa tantissima differenza e che cambia totalmente l'immersione all'interno della pellicola. E poi si arriva alla versione che Warner mi ha gentilmente inviato in anteprima e si tratta della versione Digibook che adesso vi mostrerò nell'unboxing perché qui accanto a me ho un bel bustone che giusto un paio di giorni fa mi è arrivato e che contiene delle cose bellissime. Intanto vi faccio vedere i gadget che Warner mi ha inviato. Il primo, eccolo qui, si tratta di questa. Questa è una borsa ragazzi, una borsa che non ho ancora aperto anche se la busta è aperta perché ero curiosissimo di vedere la versione Blu-ray. Eccola qui, si tratta di una borsa, una sorta di shopping bag che ha sul fronte la copertina della prima edizione di Animali Fantastici di Newt Scamander quella che ha presentato al Ghirigoro e che vediamo per qualche secondo sul giornale che Newt tiene tra le mani. E invece sul retro abbiamo la dicitura, il logo dei crimini di Grindelwald. Molto molto bella questa borsa ma abbiamo ancora delle chicche davvero molto molto interessanti come ad esempio questa qui che invece è una tazza una tazza che naturalmente adesso farà parte del mio set per le Potter News si tratta di una tazza con degli snasi. Qui abbiamo la dicitura snaso con questo cucciolo di snaso in primo piano e invece poi da questa parte ecco che abbiamo tutti e quattro i mini snasi con una moneta. davvero molto molto bella questa tazza e assolutamente andrà a far parte della mia scrivania. E non è ancora finita qui, ecco che abbiamo una cosa che mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta ragazzi e si tratta, eccola qui, togliamo questa busta, si tratta di questo. Questo è un frammento del film I crimini di Grindelwald. Io sono davvero grato, ringrazio tantissimo Warner per avermi inviato questo gadget un gadget con certificato di autenticità sul retro che adesso vi mostro un po' più nel dettaglio perché ne vale assolutamente la pena. Ed eccolo qui ragazzi, è assolutamente bellissimo. Un pezzo che entra a far parte ufficialmente della mia collezione di Harry Potter e Animali Fantastici e in questo frame è racchiusa la scena del discorso di Grindelwald. Troviamo Grindelwald che parla alla platea e devo dire che sono stato davvero molto molto fortunato un frammento che assolutamente racchiude tutta l'essenza del film stesso. Molto bella anche questa immagine qui accanto in altissima risoluzione di questo simbolo dei Doni della Morte con la bacchetta di Sambuco al centro e troviamo questo split tra Grindelwald e il giovane Silente. E poi qui a destra ecco che invece troviamo il logo dei crimini di Grindelwald con scritto Special Edition e tutti i vari riferimenti a questo oggetto da collezione. Dietro ha anche un piccolo supporto per poterlo tenere in piedi. Io davvero sono senza parole e ringrazio tantissimo ancora una volta Warner per questo regalo stupendo e ragazzi però adesso vi devo proprio mostrare la versione di Gbook in superanteprima. Ed eccola qui tra le mie mani in tutto il suo splendore. Ragazzi è davvero molto molto bella. Si tratta di una versione che somiglia molto a un libro rilegato in hardcover e la parte frontale è totalmente ricoperta da quest'immagine lenticolare dove troviamo Grindelwald da una parte e Newt e il giovane Silente dall'altra. Io spero si possa riuscire a vedere anche dal video. L'effetto è davvero molto molto bello e mi piace il fatto che l'immagine vada a coprire per intero tutta la copertina del Blu-ray. E invece sul retro troviamo il simbolo dei Doni della Morte e tutte le varie logature in basso di Warner, Wizarding World e tutto il resto. Andando ad aprire questo bellissimo cofanetto ecco che troviamo tutte le locandine del Circus Arcanus molto molto belle che abbiamo visto nel film purtroppo per poco tempo e poi all'interno ecco che comincia tutta una sequenza di foto e approfondimenti sui vari personaggi. Il contenuto del digibook è totalmente in lingua inglese e questo va precisato perché me lo avete già chiesto in tanti su Instagram. Comunque è assolutamente di facile comprensione. Abbiamo moltissime immagini e devo dire che sono rimasto molto molto contento molto colpito dal fatto che questo digibook è davvero molto molto corposo le pagine sono davvero tante, circa una sessantina ed è una sorta di piccola valigia di Newt come il libro pieno di immagini, artefatti e tutti i retroscena dei film questa è una sorta di riassunto dove poi alla fine viene appunto consigliato l'acquisto del nuovo volume dedicato ai crimini di Grindelwald che io non vi ho ancora recensito ma che porterò presto che è questo qui l'archivio della magia. libro, ragazzi, già vi faccio un grandissimo spoiler da acquistare immediatamente a scatola chiusa perché è pieno di cose davvero fantastiche comunque è molto molto interessante è molto ben realizzata la stampa in altissima definizione e poi all'interno troviamo questo volantino che ci preannuncia l'arrivo nel 2019 di Wizards Unite il gioco in stile Pokémon GO che troveremo per gli nostri smartphone quindi per Android e iOS non è ancora disponibile ma già è possibile recarsi sul sito per registrarsi e entrare a far parte di questa comunità e si riceveranno man mano delle email con le novità e le anticipazioni sul gioco io non vedo l'ora di girare per la mia città con lo smartphone in mano e ad andare a caccia di magia perché sembra davvero molto molto promettente ma farò un video apposito quando sarà il tempo di provare questa applicazione e ragazzi poi alla fine del digibook ecco che troviamo i due Blu-ray anzi troviamo il Blu-ray classico con i contenuti speciali quindi anche le scene eliminate e poi dietro troviamo anche la versione DVD del film io devo dire che è una delle versioni secondo me più belle e più particolari di questi crimini di Grindelwald io non vedo l'ora di andarlo a rivedere e ragazzi fatemi sapere qual è la vostra versione preferita nei commenti a me arriverà presto anche la versione Steelbook quindi vi recensirò anche quella in un prossimo video e sono appunto molto molto curioso di sapere quale avete scelto quindi scatenatevi nei commenti io ringrazio ancora una volta tantissimo Warner per avermi inviato in anteprima questo film e per tutti i gadget fantastici che mi ha inviato e ragazzi io vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace commentare e condividere il video con i vostri amici e naturalmente di seguirmi su Instagram mi trovate come Antonio.seria detto questo io la smetto con le mie chiacchiere e vi do appuntamento a prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao